ma il significato di resurrezione and which is the meaning of resurrection ste cosa hai capito della risurrezione veramente volevo capire la differenza tra la risurrezione e la coscienza di tutti allora si vuole capire la differenza tra la risurrezione e la consapevolezza prima ti devi esprimere questo tu puoi esprimere o nessuno può esprimere cosa è il significato la risurrezione è quando tu è la seconda vita quindi quando tu comprendi che la vita materiale non ha più nessun tipo di e risorge a una vita spirituale se non c'è contrasto ma come si dice che la risurrezione è quando tu sei nato ancora nella vita spirituale e tu sei morto per la materiale e da lì comincia la coscienza di Cristo ma si dice che la risurrezione è sempre realizzata ma Gesù è stato realizzato prima ma Gesù ha detto che ora mi entro in questo ritmo divino quindi non c'è 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 Lui stava in casa di una signora che ha pregato insomma per tutta la vita e aveva intorno ai 60 e 70 anni. E lei ha visto la figura di Gesù e Krishna. E gli ha chiesto a questa signora ma perché tieni la fotografia, l'immagine di Cristo? Te sei una devota di Gesù perché tieni la fotografia, l'immagine di Cristo? E questa suora gli ha detto, non dirlo, non parlare, fermati. E lei ha detto che uno è il figlio e l'altro è il padre. E lei non conosceva questo. E poi, lei c'è tanto appolento e serviva molto appolento, con tutte le platte goldene e le spune e tutto, e varietà di prasada. E questa suora, poi insomma lei cuscina, lei era completamente vegetariana e cucinava un prasada buonissimo con addirittura piatti d'oro e posate d'oro. E allora dopo aver visto questo, Maharaj si soffermò in una stanza e in questa stanza c'era un ritratto di Gesù. E nell'immagine Gesù faceva questo segno. E allora Maharaj si è messo a pregare, caro Gesù, cosa vuoi dire con questo segno, cosa vuoi insegnare? E allora Maharaj dice che quando ha pregato in questo modo, Gesù è apparso dal quadro. E aveva un bel aspetto, bei capelli, bella barba. E gli ha detto due cose interessano. Conoscere l'anima. E cosa potrebbe aver detto? Oltre conoscere l'anima e conoscere il Supremo. Il Salvatore. Ci sono due cose. E uno non deve dimenticarlo mai. E questa cosa Maharaj dice che lo ha aiutato moltissimo. Dice, è per questo motivo che sono qui che parlo con voi. Non per altri motivi. Dice, quando non ti ricordi queste due cose sei apposto. Dice, quando ti riscusate, quando non ti dimentichi queste due cose sei apposto. Dice, a cosa serve trovarsi per decine, tante ore, tanti giorni per parlare di altre cose? Di quello bisogna parlare. Dello scopo finale. Questo è per riposare. Tutto è riposato. Il Maharaj dice che quando gli è successo questa cosa era in estasi. Si dava i pizzicotti. Ma è vero, sto sognando. Sto sognando, stava piangendo e ha realizzato che era vero. E ha visto Gesù faccia a faccia. E dopo dieci minuti questa suora è entrata nella sua stanza. E le ha, e Maharaj ha condiviso, le ha raccontate. E ho chiesto a questa suora, è possibile che sia successa una cosa del genere? E questa suora, senza nemmeno cominciare a parlare, a cominciare a basciucchiando da tutte le parti. E gli ha detto, si, si, ti è successo veramente, ti è successo veramente. E i bacetti da tutte le parti. E quindi anche noi, anche noi dobbiamo ottenerlo. Quindi quando arriva la misericordia uno ce l'ha fatta, ha risolto. E dopo dipende da quanto uno l'accetta questa misericordia. E la stessa cosa dice Maharaj quando legge la Bhagavad Gita. Io suggerisco a tutti di prendersi questa immagine di Gesù, in modo da ricordarsi sempre. Cioè di ricordarsi sempre di essere coscienti, si, sempre coscienti. non hanno amore. Invece questi non hanno amore, tengono, raffigurano Cristo come crocifisso. Dice, se la tenete in casa un'immagine di un familiare morto. Dice, se infatti la fotografia è un familiare morto e poi l'appiccicato al muro. non esiste proprio. Quindi un uso sbagliato. Dice, non è amore e se uno ha quel tipo di iconografia vuol dire che non si può connettere. If you are dead, so I cannot love you. No connection with you, you are dead. Praticamente quel tipo di mettere quell'immagine lì è come dire sei, penso avrei capito, fa un po' schifo, sei pieno di sangue, sei morto, non ti voglio, non mi voglio connettere con te. Il Nazareno, quando è morto, diciamo hanno detto ha preso il karma della terra, ma no lui semmai ha preso il karma dei suoi discepoli, è questo, questa storia di questo karma. Le persone dicono, magari i cristiani dicono che quando Gesù morì, ha preso il karma dei suoi discepoli di tutti. Non solo questo, dicono che si morì per prendere il tuo karma, ma tu vivi qui. Che dice che questi dicono che è morto per prendere il karma di tutti. All. Di tutti. Loro hanno preso i peccati di tutti. Loro hanno preso i peccati di tutti. Rade Rade. Welcome Brunegg. Jai Rade. Jai Jai. How are you, my dear? Very good. So good, you are becoming tall. Jai Rade. So? Good. Good. Nice. Sing one bhaja. So? They took your karma, all of you, they took your sin. So, they died for you. They died for you. They never died for us. They died for his father. He was loved with his father, not for us. è morto d'amore per il suo padre e suo papà infatti per questo io ho fatto sta domanda cioè lui non è che ha preso il capo lui se l'ha preso di qualche discevolo suo come fanno normalmente gli amanti sono promuovono per il loro amante innamorati novi discevolo ha fatto il sacrificio per il padre e poi che prima del padre poi non è la beauty of love questa la bellezza dell'amore jai prasadam ki jai no ice cream ice cream ice cream in germany when you hear the stills the ice man is coming one bhajan one only bhajan ii batti vedanta sadhu maraj ki jai guru deva ki jai bravo pari ki jai